Prima ho confidato a padre Bartolomei i miei timori per la fortuna che stai per ereditare e per il notevole rischio che stai per correre per questa ragione. E per caso il padre ha una soluzione per questo dilemma? Esatto. Lui ci suggerisce di creare un istituto benefico che custodisca il tuo patrimonio. Non credo di aver capito. È semplice. Quell'istituto utilizzerà il tuo denaro per opere sociali. E si impegnerà a pagarti una somma mensile per provvedere al tuo mantenimento. Così potrò disinteressarmi di tutto ciò che riguarda i beni materiali. E non avendo tu in gestione il tuo patrimonio, nessuno vorrà attentare alla tua vita. È la soluzione perfetta per tutelare la tua fortuna e la tua sicurezza. E allo stesso tempo potrò essere d'aiuto ai più bisognosi. Sì, esatto. Però, Termo, io non so assolutamente nulla di questi istituti caritatevoli. Come potremmo crearne uno? Non ti preoccupare, perché padre Bartolome ci aiuterà. Lavora da anni in questo ambito. Collabora con istituzioni e con fraternite. Ti offrirà aiuto e assistenza. Finalmente un rimedio alle mie tribolazioni. Delmo. Molto presto potremo vivere serenamente il nostro amore.